Alla fine credo che Enrico Letta o Provenzano in questi giorni hanno utilizzato parole che sono le parole di tutti e dunque la necessità immediata che si interrompa questa azione di guerra, di conflitto assolutamente grave, pericolosa il fatto che si riapra una fase di negoziato è l'obiettivo dei due popoli e dei due stati come obiettivo imprescindibile e io credo che davvero siamo di fronte a una spirale drammatica a cui contribuisce sia l'estremismo di Hamas sia la radicalizzazione dell'azione del governo israeliano che credo in questi giorni sta davvero contribuendo al crescere ulteriore della tensione Parlare di due popoli e due stati oggi vuol dire tenere sullo sfondo quella che è una sfida che nell'immediato sembra lontanissima non appare lontanissima, tuttavia io credo che sia una prospettiva rispetto a cui si debba tornare a lavorare ed è ovvio che per tornare a lavorare ci devono essere dei presupposti, ci deve essere la difesa dell'esistenza dello Stato di Israele e ci deve essere la ricostruzione di una condizione per i palestinesi di libertà, autonomia, dignità che oggi è messa in discussione pericolosamente ogni giorno dalle scelte stesse del governo israeliano Io sono convinto del fatto che oggi siamo davvero di fronte a una spirale che mette in difficoltà enorme la leadership di Abu Mazen e siamo di fronte al fatto che Hamas esce paradossalmente rafforzata e quindi l'azione va fermata anche perché è quella che favorisce e alimenta il gioco di Hamas siamo di fronte a due radicalizzazioni che mettono sempre di più in discussione il futuro e poi producono un sacco di dramma e dolore nel presente Grazie a tutti